Partiamo dall'abbraccio con Spalletti perché ha fatto di tutto per portarti qui, ha sempre espresso grande stima nei tuoi confronti e questa sera si è capito anche bene perché? Il mister l'ho voluto tra l'anno a Udine, mi sono trovato bene con lui perché alla fine mi hai fatto esplodere lui nel calcio che conta. Sono contento di questa sera per la prestazione mia e di tutta la squadra, abbiamo fatto una grande vittoria contro una grande squadra come la Roma e dobbiamo continuare su questa strada. C'è stata anche una grande capacità di soffrire anche da parte tua perché spesso tornavi indietro e facevi ripartire addirittura l'azione? Sì, quello che ci ha chiesto un po' il mister, i primi difensori devono essere gli attaccanti, noi io e Ale cercavamo di tornare sempre dietro la palla e poi ripartire perché ce l'abbiamo nelle caratteristiche. Cambiano gli uomini ma l'anima di questa Juventus è sempre la stessa, c'è grande compattezza e questo è un po' il vostro segreto? Sì, è sempre stato nella Juventus, gruppo unito, squadra unita, tutti e undici che hanno voglia di lottare fino al novantesimo e anche stasera l'abbiamo dimostrato. E adesso la classifica, continuate a guardarla o è troppo presto, come dice Staglia Mesi? No, no, la guardiamo, però dobbiamo guardare soprattutto noi stessi senza guardare tanto l'Inter, dobbiamo continuare così, da qua alla fine mancano nuove partite e dobbiamo andare in campo con la mentalità di vincere tutte nuove. Grazie Vincenzo Iacuinta